Nel comune costiero di Giulianova i lavori che dovevano interessare la facciata della scuola dei amici se non sono mai partiti, ma a cominciare da venerdì prossimo l'ingombrante impalcatura che si affaccia su Piazza della Libertà verrà con ogni probabilità rimossa. Il plesso che ad oggi occupa elementari e medie continua a rimanere al centro di polemiche dopo gli interventi per il miglioramento della vulnerabilità sismica del fabbricato. Il comune aveva optato tre mesi fa di mantenere in piedi il ponteggio installato dalla ditta di Eleuterio, aggiudicatare dell'appalto originario, questo in attesa di avviare i lavori di restauro delle facciate e al fine di garantire l'incolumità pubblica messa a rischio dal possibile distacco di parti dell'edificio. A settembre era stato rinnovato anche il contratto di noleggio fino al 31 dicembre prossimo. Il costo complessivo per il comodato del ponteggio è stato di 58 mila euro. La struttura doveva essere impiegata già da marzo per eseguire i lavori di ripristino delle facciate, ma per questo intervento solo in data 5 novembre 2018 una determina dirigenziale incaricata dalla ditta in caos di Colledara per un importo di poco superiore ai 41 mila euro. Il costo dei lavori è dunque inferiore a quello legato al noleggio dei ponteggi, che verranno rimossi durante le festività natalizie, senza che i lavori di ripristino delle facciate siano stati portati a compimento. Potrebbe dunque capitare che a fine anno scolastico l'impalcatura sia da ripristinare e preseguire i lavori comprobabili in nuovi costi aggiuntivi. La spesa iniziale di oltre 58 mila euro sarebbe stata praticamente inutile. Qualcuno ipotizza che nei prossimi giorni, prima dello smontaggio del ponteggio, verranno eliminate soltanto le parti pericolanti delle facciate, con il rinvio del recupero del prospetto storico a data da destinarsi.